Allora oggi è l'8 dicembre del 2018 Io sto facendo un giro in un appezzamento di terreno coltivato Questo lavoro qua, i nostri amici cinghiali l'hanno fatto questa notte Questo appezzamento di terreno si stende su una superficie di circa un ettaro Ed è completamente, completamente devastato Ora io mi domando, mi domando No? Cioè, guardate qua Guardate qua Questo è, cosa fanno? Ma mica tante bestie, eh? Due o tre bestie grosse in una notte Ok? D'accordo, siamo a Candelo Siamo vicino al poligono militare Tutte le giustificazioni del mondo I tutor non possono uscire perché ci sono i cacciatori Ma la caccia per certi giorni e la settimana è chiusa Perché è chiusa E lì i tutor possono uscire Allora qui c'è interesse Perché lo dico, c'è interesse a lasciare che le cose stiano così D'accordo? Io faccio l'agricoltore Vivo di agricoltura Non vivo di caccia al cinghiale Non vivo di caccia al cinghiale Vivo di agricoltura E io devo mantenere queste bestie D'accordo? Io con gli animali non c'ho niente Io amo gli animali Ok? Però io li devo mantenere Perché qualcuno deve divertirsi a sparargli E a vendere la carne Perché diciamocelo Questo succede D'accordo? Ora, siamo stanchi Io sono stanco I miei colleghi agricoltori sono stanchi Non possiamo farci niente È una peste D'accordo? È una peste E nessuno fa niente Niente Nessuno fa niente Ci dicono che i tutor Li rimetteranno a gennaio Ma in una notte hanno fatto questo Io sono fuori dai divini beni Sono fuori dai divini beni Io mi chiamo Marco Aondio Vivo a Candelo Alla tenuta la mandria Faccio l'agricoltore Non faccio il cacciatore D'accordo? Faccio l'agricoltore Vivo della mia terra Vivo dei frutti della mia terra Questo è quello che in una notte Fanno i cinghiali Ecco Grazie se qualcuno mi ha ascoltato Grazie dell'attenzione Buon 8 dicembre a tutti